Una buona giornata, ben trovati, nuova edizione di 7 in punto. Tutto quest'oggi ci occupiamo di odontoiatria, parleremo anche di abusivismo, di turismo odontoiatrico e di prezzi low cost, che spesso sono specchietti per le allodole. Poi nella seconda parte della trasmissione ci occuperemo invece di odontoiatria sociale, un tema altrettanto importante. Partiamo però da quanto anticipato poco fa, lo facciamo con il nostro primo ospite che vado subito a presentarvi. Eccolo qui. Allora, buongiorno a Ferruccio Berto, presidente della commissione odontoiatri dell'Ordine dei Medici di Padova. Buongiorno. Allora, dicevamo, il titolo che abbiamo scelto è Tra low cost e abusivismo, perché c'è un dato che salta agli occhi subito, del quale ho chiesto conto al nostro ospite poco prima di iniziare la trasmissione. Ed è proprio quello sull'abusivismo, perché il dato in questione è che un dentista su quattro è abusivo. Quindi è facile incappare in uno di questi non professionisti. Sono dati corretti? Sono corretti. C'è uno studio dell'Euroes, che è di quest'anno, dove hanno stimato che su 54 mila circa dentisti in Italia, 15 mila sono abusivi. Quindi uno su quattro. Nel Veneto, nella provincia di Padova, che io rappresento, sono circa, sottostimando, dico un centinaio, ma sono molto di più. Quindi è un problema importante che va, così, che va un attimino a minare quello che è anche la sicurezza del paziente e dell'utente. Tengo presente che io sono qua non a rappresentare i dentisti, perché, insomma, ovvio che sono un odontoiatro anch'io. Ma il nostro compito è soprattutto la tutela del paziente, cioè la nostra funzione è questa. Quindi, quando vediamo o leggiamo di dati allarmanti, soprattutto in periodi di crisi, siamo veramente preoccupati per i pazienti. Certo. Perché dopo... Tra l'altro voi lavorate in collaborazione con il NAS, il Nucleo Antisofisticazione dei Carabinieri, perché ovviamente queste sono situazioni davvero a limite. Quando si parla di tutela della salute e di pericolo per la salute delle persone, naturalmente c'è questo nucleo che interviene. Ed è una collaborazione molto stretta. Sì, noi siamo in contatto molto stretto con il NAS di Padova, che pubblicamente voglio anche ringraziare, perché, malgrado lei provi a pensare in AS di quante cose si devono occupare, quindi si danno una grossa mano e noi, d'altra parte, possiamo cercare di dargli una mano a loro, perché in effetti siamo abbastanza coordinati. Per esempio, una cosa che facciamo noi come ordine dei medici, adesso, ci costituiamo sempre come parte civile nei processi contro l'abusivismo della professione. Questo perché? Perché nell'abusivismo della professione medica, non solo odontoiatrica, abbiamo una legge, la 348 del codice penale, che dà sanzioni veramente ridicole. Stiamo parlando di 500 Euro di multa, che poi può essere ridotta, per uno che può tranquillamente metterti le mani in bocca, farti anestesia, creati grossi problemi, grossi danni e se la potrebbe cavare con queste pene irrisorie. Ecco che quindi il nostro rapporto con il NAS è in tempo. Ma quindi, mi scusi, è possibile che persone, tra l'altro già segnalate, ricomincino a... Vi è capitato di... Eh sì. Quindi voglio dire, appunto, diventa anche un po' frustrante. È frustrante per loro e per noi. Io le faccio solo... non faccio nomi, potrei anche farli, perché io personalmente sono stato denunciato, mi pare, un 3-4 volte da un abusivo, uno che dice che si è laureato, probabilmente mi denuncerà anche dopo questa dichiarazione, anche se non faccio nomi, perché lui regolarmente gli sequestrano tutto, il giorno dopo gli ridanno in parte la strumentazione oppure apre da un'altra parte, mi ha denunciato perché, così, secondo lui gli sto creando un impedimento alla sua attività, ha denunciato anche i NAS perché, secondo lui, i NAS gli creano dello stress e questo non è assolutamente un medico. Quindi questo denuncia su... Sì. Quindi le spiego, c'è anche una mentalità così, tra l'altro, a volte è criminale, a volte proprio sono dei, se mi permettete, dei mentecati, insomma, io dico uno che va a denunciare i NAS perché gli fanno una perquisizione in casa. Certo, quando il ruolo è ben preciso. Senta, ma se queste persone riaprono significa che ci sono persone che continuano ad andarci. Bisogna forse partire anche da queste persone e spiegare loro che cosa. Allora, abbiamo due tipi probabilmente di persone che vanno dall'abusivo. Qualcuno che forse crede in buona fede di andare da un medico. Ecco che, per esempio, noi chiediamo ai nostri iscritti di farsi ben identificare dentro i loro studi. Quindi, per esempio, basta poco mettere una cartellina qua con scritto nome, eccetera. Io voglio dire anche alla popolazione che c'è un portale dell'Ordine dei Medici di Padova, anche nazionale, basta digitare l'Ordine dei Medici di Padova, mettere il nome del medico e viene fuori subito la nostra posizione, la nostra specialità. Quindi è tutto trasparente. Questo è già un consiglio per verificare. Si dovrebbe verificare sempre. E poi c'è anche chi pensa di risparmiare. Cioè, io vado dal tecnico per risparmiare. E questo mi allaccio velocemente anche al turismo odontoiadrio. Risparmiare in odontoiadria. Allora, il risparmio, i nostri lavori hanno tempi tecnici ben precisi. Tu quello che pensi di aver risparmiato poi lo devi vedere con follow up, cioè con un controllo a 5, 6, 10 anni. Noi vediamo problemi a 6 mesi dopo un intervento. Mettiamo un impianto. Perché appunto, ribadiamo che non stiamo parlando della carie. No, stiamo parlando di interventi. Cioè, dove veramente ha senso cercare di risparmiare. Ma non è che noi non vogliamo. C'è una continua ricerca da parte del medico di trovare, non so, lo strumento che magari ci fa risparmiare. Però ci sono dei prezzi, dei costi che sono incomprimibili. Cioè, tu non puoi comprimere sulla sicurezza, sull'igiene, sul personale. Tutti sanno cosa costa avere del personale. Sul materiale, il materiale made in Italy, fatto da noi, tecnici italiani, certificati. Quindi, sull'aggiornamento, noi abbiamo l'obbligo di aggiornare. E l'aggiornamento costa. Cioè, io sempre mi vanto quando dico che siamo ancora tra le prime odontoiatrie del mondo. Non sto dicendo una sciocca, del mondo. Purtroppo, se continuerà così, facevo prima un discorso con un collega, sta ritornando, stanno ritornando le dentiere. Non si facevano quasi più. Perché adesso le tecniche sono talmente raffinate. E purtroppo c'è questa richiesta. Siamo anche un paese, però, in cui, se si pensa all'allungamento della vita, se si pensa che questi sono problemi, ovviamente, che ti accompagnano. Siamo un paese in cui le cure di un certo tipo sono a carico, per lo più, insomma, a carico delle singole persone. E c'è magari chi se lo può permettere e chi invece non se lo può permettere. Forse anche, l'aveva accenato anche lei, insomma, il motivo per cui si ricorre all'abusivismo, a volte per necessità, anche se, insomma, noi siamo qui per ribadire che non è giusto. E' un sistema sanitario che comunque, tra l'altro, fino a un certo punto ha garantito quasi tutto a tutti e che comincia ad avere problemi. Forse qualcosa da rivedere c'è, però, nel senso che... Sì, sicuramente sta cambiando. E' anche giusto che cambi, insomma. Siamo passati da un sistema che ci dava tutto. Però, ecco, non credo che lo Stato, le istituzioni, la società, i media, devono fare assolutamente pesare solo nel professionista la crisi. Ciò mi spiego. Credo di non dire niente di strano dicendo che molti di noi fanno già del sociale. Lo fanno nei propri studi. Tutti noi abbiamo la famiglia un po' che ha bisogno, il vecchietto, insomma, che gli fai delle dilazioni di pagamento, a volte non li fai... Però, non è questa la via. No. Cioè, capisce cosa voglio dire. Perché se fosse questa la via, gli dico, io personalmente potrei anche fare un altro lavoro, no? Non è che vado a lavorare la mattina perché... Cioè, il sociale o il pseudo sociale deve aiutarci lo Stato. Una cosa, per esempio, perché... E lo chiediamo da sempre, non ci fanno mettere in detrazione tutte le spese mediche.